Non sta a presa, muovere l'aria e l'intesa, manca forza per tirare, aumenta un pane a parte, aumenta un pane a fine, io vero il sugo vero, è proprio una latina, sapete che l'est'angelo, c'è una lunga senza, e che c'è la soluzione, manca forza per tirare, aumenta un pane a fine, e che c'è la soluzione, manca forza per tirare, aumenta un pane a fine,